Barella, la gioca sulla destra, cross verso il C, ci mette la testa, non si passa, ottima parata Una parata eccezionale, ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni Sbattono ancora contro la difesa Marco Verratti, pallone interessante in verticale, viene servito bene, è solo Beh questo è un passaggio quantomeno discutibile, Tonali Vedo vari uomini Luca che rimangono alti, può colpire, supera la linea, gol Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma Splendido Tonali, se ne va, può venire la porta da lì, può provare, non si fermano più, ancora a segno Tre gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari Aggressività e verticalizzazione, può sembrare semplice ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti È sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica 3-0 dunque Che pallone, c'è il tiro! Splendida parata di Cragno Prova a prolungare Ha letto bene l'azione, ottimo intervento Prova a verticalizzare Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare Prova a giocarla in profondità Libera tempestivamente Sceglie di andare per vie verticali Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via Pallone interessante, in verticale Scamacca Scheme, bella parata Conclusione pericolosa Ci ha provato, nonostante la distanza fosse proibitiva La smortia sul suo volto, guarda Fabio Dice tutto sull'esecuzione Riceve la palla Prova a tirare Insacca le spalle del portiere Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto l'effetto sperato Belotti Grande parata di Onana Ed ecco il gol Ed è il primo gol della gara Il portiere è stato evitare di concedere gol, altrimenti si mette malissimo Bernardeschi C'è spazio per... Un'altra conclusione Ci arriva di nuovo Gol, non sbaglia Questa adesso è una serie ipoteca sulla partita Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione Si è fatto trovare pronto Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone E si riparte da un netto 2 a 0 Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare Riceve la palla Tonali Pallone interessante Ecco il tiro E arriva il gol Sembrano avere il totale controllo della gara Un fantastico tiro al volo per un grande gol A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi Lorenzo Pellegrini Pallone che poteva diventare pericoloso Ci mette una pezza C'è l'opportunità per il contropiede Ecco Lewandowski Cristante Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata Bella apertura Pessina Belotti Belotti Poteva essere il poker Il quarto gol Non si scherza con questo giocatore Ha sfondato centralmente Doveva solo essere più convinto nella conclusione Sapeva già tutto e anticipa l'avversario Il passaggio forse era un po' telefonato Ma resta l'ottimo posizionamento difensivo Pessina Alessio Romagnoli Prevale e recupera palla Cristante Pellegrini Tocco morbido C'è spazio da sfruttare in verticale Ci mette la testa Azione discreta nel complesso Però ci sono dei problemi in fase di finalizzazione Era proprio lì Davanti alla porta Ma ha buttato via l'occasione Errore qui Pallone sprecato Lorenzo Pellegrini Sceglie di andare per via verticali Chance per tirare Il pallone è dentro Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile C'è spazio da sfruttare in verticale E spazio da sfruttare in verticale